Il presunto bene comune, in nome del quale sono state commesse tante ingiustizie e oppressioni, basti guardare in questi ultimi tre anni, non fa mai confliggere la popolazione tra loro o gli interessi di una maggioranza contro una minoranza e viceversa. Nel nome di presunti diritti anche, l'uomo moderno, accecato dal suo egoismo nella vanità dei propri capricci, è disposto a tutto pur di raggiungere i propri scopi e questo in virtù del potere del danaro. Il male non è mai un diritto, nessun diritto può essere dunque preteso alle spese di qualcun altro, soprattutto se si tratta di persone fragili e indifese, come i bambini. In conclusione, il bene comune si deve dunque fondare su una legge naturale, razionale e giusta per tutti e questa legge è insita nel cuore dell'uomo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!